Quest'anno celebriamo la festa di San Giuseppe in un clima molto speciale. L'epidemia ci obbliga a restare dentro le nostre case e in tutti è presente la preoccupazione per la salute nostra, dei nostri cari, come pure per le prevedibili conseguenze della paralisi alla quale sono e saranno costrette molte attività produttive. Questi sentimenti ci portano a guardare all'esempio di San Giuseppe che si trovò a cercare a trovare la volontà di Dio in circostanze singolari, difficili, senza poter contare su nient'altro che sulla legge del Signore e sul proprio sincero desiderio di compiere la sua volontà. Giuseppe ci appare pertanto un riferimento sicuro per tutti noi che stiamo vivendo un tempo di prova. Preghiamo oggi poi in particolare, come già abbiamo ricordato all'inizio di questa celebrazione, per i papà, perché il Signore doni loro la capacità di provvedere non solamente alle necessità materiali della loro famiglia, ma anche e soprattutto la capacità di portare speranza e serenità nella fede nel Signore. Come abbiamo ascoltato dal testo del Vangelo, Giuseppe viene chiamato giusto, che significa uomo timorato di Dio e osservante fedele della sua legge. Viene colto in un momento di profondo turbamento. Da uomo giusto si domanda come in una situazione così difficile può mantenersi fedele alla legge di Dio che imponeva il ripudio della sposa infedele e nello stesso tempo preservare Maria dal biasimo della gente. Alla fine, dice il Vangelo, decise di licenziarla in segreto. Agli occhi di tutti questa decisione avrebbe indotto a pensare a lui come a un giovane che aveva approfittato della sua ragazza per poi scaricarla. Nel giudizio comune sarebbe passato lui per uomo inaffidabile e sarebbe stato il peggio nel giudizio della gente. Soltanto dopo che Giuseppe è giunto a questa decisione generosa, cioè ha deciso di caricarsi lui, benché innocente il peso di una situazione tanto difficile e dolorosa, soltanto allora Dio viene incontro al suo giusto che lo cerca nella notte. Il Signore viene in soccorso a Giuseppe quando è giunto a una soluzione che unisce in sé l'obbedienza alla legge di Dio e l'amore per Maria. Dice il Vangelo che gli apparve in sogno un angelo del Signore a rivelargli che era giunto il tempo in cui il disegno nascosto dai secoli in Dio stava prendendo un corpo nel grembo virginale di Maria. Giuseppe ha trovato in un testo di Isaia la parola che gli ha aperto la mente e portato pace al cuore. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Illuminato da Dio per mezzo del profeta, Giuseppe riconosce che il mistero che vive nel grembo di Maria è il compimento di quella promessa antica e da uomo giusto e buono, desideroso di servire il Signore, se ne assume umilmente e responsabilmente il peso. La parola di Dio porta serenità e pace. Il lungo e faticoso processo che si conclude con la decisione ultima di Giuseppe di prendere Maria come sua sposa è un discernimento nello Spirito Santo, cioè una ricerca del disegno di Dio negli eventi che entrano talvolta con impeto, come stiamo vivendo in questi giorni, nella vita delle persone. Giuseppe passa, guidato dallo Spirito, dalla ricerca di un'applicazione della legge nella carità alla luce che la profezia getta sugli eventi. Passa dalla lettera rigorosa della legge alla libertà dello Spirito. Questo atteggiamento di Giuseppe già si intravede il modo di agire di Gesù che da innocente, come il suo padre putativo, si carica della fatica dell'intera umanità. Giuseppe scopre la sua vera chiamata. Sarà lo sposo di Maria, come aveva desiderato, ma sarà anche il custode del disegno di Dio. Sarà lui a introdurre il figlio di Dio nella discendenza dei re di Giuda. Lui lo terrà sulle ginocchia quando verrà circonciso come figlio di Abramo e dell'alleanza l'ottavo giorno e lo porterà sulle spalle nel suo Bar Mitzvah. Giuseppe è l'uomo al quale il Signore parla nella notte. E la notte non soltanto quella reale, la notte soprattutto quella che allude al buio, al tempo, alla situazione nella quale lo sguardo non può spingersi ed è difficile muovere il passo. Ma è anche il tempo nel quale chi sa far tacere il tumulto dei sentimenti può ascoltare la voce di Dio. È il tempo in cui il sogno e la realtà si uniscono e si confondono e solo il cuore che cerca sinceramente Dio sa distinguere i bagliori del suo volto tra le luci incerte del crepuscolo. Giuseppe è l'uomo forte e tenace, mite, buono, che sa stare al suo posto e subito si ritira quando la missione è compiuta. A lui il Signore ha affidato suo figlio perché lo educhi secondo il suo cuore, cosicché egli possa compiacersene. A Giuseppe dunque affidiamo tutti gli uomini che hanno generato i figli nella carne e nello spirito. A lui chiediamo che ottenga luce per tutti in questo tempo dalle decisioni difficili. A lui affidiamo la Chiesa intera e in modo speciale la comunità di Roma unita al suo Vescovo Francesco.